Studio 7 TV e Sport Picciano Game presentano l'intervista di Pietro Ospite della puntata Benvenuti alla nuova puntata Abbiamo ospite Manuel Sant'Agata, attore Che sta entrando piano piano nel mondo del doppiaggio La calcia a spintoni La prima domanda è per chi non ti conosce E vorresti raccontare oggi chi è Manuel Ma soprattutto utilizzando anche poi rappresentandogli un personaggio Che rappresenteresti nel teatro Oppure doppieresti con la voce Come ti rappresenti e come ti descrivi? Bene, allora comincio Io vengo da un piccolo paese della Basilicata Si chiama Tursi, un paese di 5.000 anime Un paese molto immerso nel verde Praticamente questa passione E questa ricerca Più voglia Di espansione di ricerca Nasce proprio da questa urgenza di comunicare Le storie che in un qualche modo Belli o brutte purtroppo Mi sono accadute Già in tenera età Quindi nella crescita ho intrapreso percorsi formativi Da un punto di vista teatrale Prettamente teatrale Avevo esattamente 15 anni Quando ho iniziato tutto Praticamente Inizio con dei laboratori teatrali A cura del mio caro maestro Erminio Truncellito Nonché amico e ancora oggi collega Insomma fratello maggiore Da maestro insomma è diventato Il mio fratello maggiore E continuiamo spesso a fare spettacoli insieme Lui che diciamo mi ha forgiato Ho intrapreso questo percorso formativo Questo sul laboratorio teatrale E prettamente oravamo su Le verità assolute di noi stessi Di un'introspezione della verità Senza trinciare troppo l'aria con le mani Come diceva appunto Shakespeare Ma dire le cose dal profondo del cuore Partendo già dal nostro dialetto Perché è una cosa che Diciamo preservo con molto piacere Ho intrapreso questo percorso Interpretando i miei primi personaggi In uno spettacolo Di una rievocazione storica Più o meno tra il 1600-1700 Nonché la storia di Isabella Morra Questa poetessa di un borgo antico Dal nome Favale Nonché attuale Valsinni Ho intrapreso questo percorso Facendo il menestrello, il cantastorie Ci chiamavamo I menestrelli senza re E narravamo queste storie Antiche Folcloristiche Partendo insomma dalle storie Anche dalla vicina Puglia Insomma, dalla mia vicina Puglia Le storie del Gargano Le storie di Benedetto Croce Il pellegrinaggio che fece Benedetto Croce Da Napoli a Valsinni Alla ricerca di questa storia gialla Che si consumò In quella di Favale Appunto della morte di Isabella Morra Anche uccisa Da uno dei suoi fratelli O meglio Dai, suoi fratelli Insomma, per storie un po' particolari Che non voglio insomma qui Raccontare insomma perché è abbastanza lunga Mentre avveso questo percorso E come mi rappresento Ma in personaggi Che vivono prettamente il teatro Il doppiaggio poi è arrivato dopo Molto dopo E' un Diciamo Un percorso Parallelo A quello che vivevo Nel percorso attoriale In teatro Appunto perché Vari amici insomma Mi dicevano Fai questo corso di edizione Fai questo corso di doppiaggio Perché all'epoca insomma C'era un corso di doppiaggio Di un'accademia di Roma Che aprì Per tre anni Fecero un esperimento A Matera Dove attualmente vivo E ho fatto questo percorso Avvicinandomi al mondo del doppiaggio Che già conoscevo in realtà Ma da spettatore Perché sentivo Molte voci del cinema Molte erano sempre le stesse Cosa che purtroppo ancora oggi Esiste questa cosa Di sentire sempre le stesse voci Però era affascinante E ancora affascinante Ma lo era ancora di più Quando cominciò tutto Perché giocavo molto con la mia voce Imitando vari personaggi Insomma del mio paese Vari personaggi Anche della televisione E quindi iniziavo a giocarci Fino a dare poi carattere Perché sfruttavo tutto questo Negli spettacoli teatrali Facendo book insomma Nella Shakespeare O altri personaggi Di piccole storie Come il carnevale Il carnevale di Teana Insomma di un altro paese Qui vicino Quindi caratterizzazioni Di personaggi Ti dirò di più Quando facevo la seconda media Che non aveva per niente voglia di studiare Cioè tutto tranne che studiare C'è un professore Un docente Di letteratura Che voleva fare lo Scusa mi faceva la terza media In quel periodo Voleva fare lo spettacolo Dei Promessi Sposi Certo Manuel tu ce l'hai questa cosa Che stavo sempre a intrattenere A imitare Insomma ero quello più Spigliato Ero il ripetente Quindi diciamo Quello più grande della scuola Io insieme a tante altre teste calde Come me Però ero quello più vicino Al lato teatrale E non ad altro Vuoi fare la parte di Renzo Nel nostro spettacolo? Eh vabbè Professo ma che devo fare Queste cose Mi dà il copione Che sono tipo un blocco Così da imparare No professo ma che sei scevo Ho tutte queste cose a imparare E vabbè dai Una parte piccolina Almeno la devi fare E feci la parte di Don Rodrigo L'incontro con Don Abboglio Con Fra Cristofaro Nel capitolo 9 Insomma quando Fra Cristofaro Entrò in casa Di Don Rodrigo Lì mi misi alla ricerca Poi Mi dite quel pezzetto Fatto Vabbè dai la devo fare Che la devo fare Devo fare con Don del professor Perché mi deve dare la promozione Perché altrimenti mi boccia Mi metto E cerco Promessi sposi Scene Trovo i film Trovo qualsiasi Faccio una ricerca approfondita Sul personaggio Al che poi Mi guardavo il video Dell'incontro Tra Fra Cristofaro E Don Rodrigo E imitavo Tutti i suoi gesti Diciamo Iniziamo a studiare Tutti i vari Movimenti Del personaggio Che vedevo in tv Che poi Quando facevamo le prove Davo le indicazioni All'altro ragazzo Che doveva fare Fra Cristofaro Allora nel film Lui stava là Poi si sposta qua Faccia Professor Ma Perché facciamo Questo spostamento Intorno al tavolo Io dico la battuta Mentre mi appoggio Col braccio Poi lo guardo Con questo sguardo Poi mi metto In questa posizione Poi mi gira Da quest'altro lato E ci rimase così Ho detto Professor Ma la posso fare Ancora la parte Con la magia negli occhi Ho scoperto il mondo Professor La posso fare Ancora La parte di Di Renzo Nello spettacolo Eh no Mi dispiace Abbiamo già dato Alessio Eh no Professor Ma la farà a me Quel foglio così Che è durato 5 minuti Non me ne sono manco accorto Ma Ma recitare significa questo Cioè Vivere quella magia lì Ma che bello Lo voglio fare E poi da lì insomma Tutta una ricerca continua Varie situazioni Oh voglio recitare Voglio Voglio creare questo personaggio Ho in mente di farlo camminare così Che ne pensi se lo faccio camminare così Mi divertivo Mi giocavo Poi Quando ne parlo Ne parlo sempre con la luce È una bellezza Cosa che tra l'altro Anche nel doppiaggio Facendo la diretta Con Lilli Insomma Quando sentivo parlare I maestri Parlare del doppiaggio Del doppiaggio Mi parlavano con sorriso Con amore Gli sorridevano gli occhi Gli orecchie, i capelli Il naso, la bocca Tutto il corpo sorrideva Ho detto Ma se questa è la magia Che si dovrebbe vivere Facendo il doppiaggio Perché oggi Purtroppo non si vive Quella magia Cosa è cambiato Mi piacerebbe tantissimo Vivere quella magia Vivere di quelle emozioni lì Di ritornare O meglio Proiettarmi un attimo Nel passato E recepire Quell'energia Quella Quell'emozione Quella 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 felicità Che sento Ad oggi Insomma Doppiatori Che hanno 40 50 anni di esperienza Vediamo Prima il doppiaggio Era così Era colà Si aveva tempo Eravamo tutti amici Tutti uniti La qualità era molto più altra Si recitava bene Avevamo più tempo Eravamo sereni Siamo a nostro agio Ed oggi invece Schiaffi Schiaffoni Schiaffi Schiaffoni Non sai Non devi uscire E quindi E' tecnicamente Dritto Tant'è vero che Io ho paura di questa cosa Perché Se dovessi entrare Nel mondo del doppiaggio Ho paura che Per lavorare Mi devo omologare Alle nuove voci Quando in realtà Mi sento più appartenente Nonostante abbia 25 anni Però mi sento più appartenente Al pensiero Di 40-50 anni fa Anche perché Il mio maestro Mi ha insegnato così Tant'è vero che io Tutti i giorni Recito con persone Che hanno poco poco 40 anni in più di me Ma ancora oggi Io ho amici 20 anni in più di me I miei coetanei Sì ciao ciao Tutto a posto Amicizie Però amicizie vere Insomma Anche scambio di opinioni Di pensieri Di esperienze Sono tutte persone Che hanno 20 anni in più di me Minimo Quindi anche Quella forma mentis Che posso avere E quello di una persona Di 40 Non dico 40 anni Però quasi Ne ha perso un po' più Antico l'età E Avendo avuto Quella scuola Della verità Far uscire la verità La bella voce Se è bella la voce È bella punto Non c'è bisogno Di fare la bella voce Perché molti doppiaggi Che sento Sono proprio questi L'attore Che sta in sala Che sa Di avere la bella voce Che recita Leggio Facendo la bella voce Se c'è la bella voce Ce l'hai e basta Me ne frega un cazzo Se c'è la bella voce Oppure no Comunicami qualcosa Dimmela in dialetto Non per questo Io col dialetto Riesco ad arrivare subito Alla Alla mente Al cuore Perché vedo Il recitare E il comunicare qualcosa Come mi insegna il mio maestro Quando sei sul palco Goditi il momento Immagina Le parole L'interpretazione Come un coltello Tu guardi La persona che sta davanti a te La guardi negli occhi Gli fai vedere il coltello E glielo infili nella pancia Ma piano E poi giri Giri Rigiri il coltello Lo guardi ancora E tiri indietro Sorridendo Hai visto Dove sono arrivato Sono arrivato alla pancia E tu mi stai guardando E poi tiri indietro Non devo dire le parole Solo per dirle Devo comunicare qualcosa Ed è quello che si dovrebbe fare Anche col doppiaggio Col teatro Puoi fare Quante ne vuoi Usare le pause che vuoi Essere te stesso Nel doppiaggio invece no Perché devi stare ai tempi suoi I respiri suoi A tutto quello che fa lui Però Con questo pensiero qui Lo stavo sentendo anche io Il coltello Senti Io Prima cosa ti faccio I miei complimenti Perché Per come lo parli Mi stai facendo emozionare anche a me E È difficile Perché Il mio lavoro Io lavoro con l'empatia Quindi Per me È un po' più difficile Però Ti dico Mi hai lasciato Mi hai fatto emozionare Quindi Grazie A questo momento Prima parlo Perché ti chiedo Come attore Salendo sul palco Tu Sei in realtà Uno Nessuno Centomila Citando Pirandello In realtà perché Rappresenti Quando Se l'hai salito Per la prima volta Sul palco E ti sei aperta La Quarta platea E davanti C'hai avuto un pubblico Poi In realtà C'hai un Buio Semibuio Però senti Erano Tante Di Quelle esplosioni All'interno Perché Inizialmente Io Ho intrapreso Questo percorso Facendo il musicista Quindi sono salito Su un palco Come bassista Di un gruppo Però Sempre Al centro Dell'attenzione Insomma In quel periodo Riuscivo Riuscivo a calpestare bene Quelle Il palco Praticamente Perché Sto ricordando Tutti questi Questi Ricordi È una magia Che vivo Perché È una droga Che ti sale Lungo la schiena Lungo il corpo Per tutto il corpo Perché c'è Quella tensione E riuscire a catturare Quella tensione E riuscire a raccontare Qualcosa Che possa Entrare Nei cuori Delle persone Che ti stanno guardando E spesso Quando scendo dal palco A parte che Quando salgo sul palco Insomma Mi viene la tremarella Quell'ansia Ma quell'ansia positiva Perché ogni volta Anzi Io spero sempre Che non finisca mai Perché quell'ansia Quella Quella sensazione Di non farcelo Di non essere abbastanza Ma la porto sempre dietro Di dare sempre Il meglio di te Perché ogni Spettacolo è bello Perché è diverso L'uno dall'altro C'è una forma di evoluzione Ogni spettacolo Che fai Poi diventa Sempre più ricco Di qualche dettaglio Poi qualcosa Viene meno Perché Insomma Siamo esseri umani Quindi Quello che hai fatto prima Te lo porti in scena I consigli Gli sguardi della gente L'attenzione L'energia Che ti comunica Che ti comunica Il pubblico La senti La fai tua E la usi come benzina Per poi comunicare Tutto quello che fai Ma poi quando scendi dal palco Quando scendo dal palco Io non vedo Non vedo l'ora Che ci sia un'altra replica Che ci sia un altro spettacolo Da fare Che ci sia qualcos'altro Quindi Frenesi assoluta Non so come spiegarla È energia Sento vita Infatti Qualche tua collega Mi diceva Inizialmente Prima di salire sul palco Prima di salire sul palco A volte Mi domandavo Perché lo faccio Poi Quando ho salito sul palco Inizio a recitare Tutto Capivo per quale motivo Lo stavo facendo E lì È tutto un po' Anche perché Poi il pubblico È diverso Sera per sera Quindi Se giri un teatro A volte Quello spettacolo Funziona benissimo Perché c'è un pubblico Molto recettivo Poi La serata successiva Giri in altro paese E lo spettacolo Sembra Diverso E Molto meno Rispetto a quello precedente A volte capita Assolutamente sì Cambia Per l'energia Che ti comunicano Però Il professionista Fa proprio questo Far vivere Quel personaggio Di volta in volta Diciamo Sempre nello stesso modo Indipendentemente Dal pubblico Perché ho recitato In pubblici Molto Molto presenti Anche in pubblici Molto assenti Persone che Scusa Tanto la volgarità E la userò Perdonami Sempre se la posso usare Ah certo Considera che Molti spettacoli Che ho fatto Soprattutto all'inizio Erano in piena estate Dove la gente Quando veniva Da vedere Quegli spettacoli Saliva dal mare Con la pantofola E voleva soltanto Sentire leggerezza Quindi Va fangule Chita e murt Praticamente Ma Si ritrovava In un borgo antico Sentire questi Terminologie Auliche Medioevali Perché 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 Quegli spettacoli Erano Sostanzialmente Anticipati O meglio Scusami Posticipati Da Una cena Ok Quindi La gente andava lì Perché doveva A cenare Il cenacolo Sotto le stelle Del borgo antico Di Favale Quindi va lì Però prima c'è lo spettacolo E vabbè Guardiamoci sto spettacolo Vediamo un po' Poi la gente si ferma Cazzarola Cioè 600 anni fa È successo questo In questo borgo Esattamente La gente Poi veniva attratta Da questa magia Appunto del teatro Attori in costume Che raccontavano Questa storia Un percorso itinerante In questo borgo antico Quindi Veniva molto attratta Da Da questa sensazione Lei domande No no Prosegui Ti stavo ascoltando No no Prego Prego No io A questo punto Ti chiedevo Ma è dunque Se scendi dal parco Poi alla fine Incontri persone Che ti pongono Delle domande Oltre a farti complimenti Chiaramente Sono di ufficio Ti fanno domande Ti hanno mai fatto Domande particolari Oppure Ti hanno fatto risaltare Dicendo Guarda In quel momento Ho riconosciuto Ho avuto la sensazione Che mi ricordava Un evento mio Un qualcosa Comunque vada Ti faceva domande particolari E soprattutto E le persone anziane Oppure i giovani Che ti mettono Poi in difficoltà Nelle sue domande Allora Paradossalmente Il pubblico più attento Che ho avuto Sono stato appunto Da giovani Miei coetanei E anche più piccoli Cosa che non mi aspetto Perché magari Avendo una sorella Anche più piccola Non so più o meno Cosa cercano i giovani Almeno i giovani D'oggi Sono molto distratti Da questa velocità Anche da questioni social Quindi Però Mi sono Mi sono ricreduto Perché c'era molta attenzione Perché Mostravano molto interesse Sia da un punto di vista Tecnico Quindi domande Del tipo Come fai a concentrarti Ma ti è mai capitato Di sbagliare Una battuta Ma quando sbagli La battuta Poi come recuperi Ma improvvisi E spesso mi è capitato Di improvvisare Tante volte Ma ovviamente Si sa Le battute le sai tu Le sanno i tuoi colleghi Non lo sa il pubblico E lì sta poi la bravura Non far capire Che c'è un errore E alle volte Ho anche Aiutato i miei colleghi Sul palco Perché C'è stato un momento Di buio E allora Ho dato le loro battute Perché poi Quando costruisco Il mio personaggio E le mie battute Imparo anche le battute Degli altri miei colleghi Così in modo tale Da creare Un innesto completo A 360 gradi Li do una connotazione Un po' specifica Delle battute E molta attenzione Sì da parte di ragazzi E ragazze Della mia età Anche da signori più grandi Insomma complimenti Da un punto di vista Recitativo Di medesimazione Il complimento più grande È proprio quando Non riuscivano più a vedere Emanuele Sant'Agata Che interpretava Ma riuscivano a vedere Quel personaggio In particolar modo Mi è successo Quest'estate Portavamo La congiura Dei baroni L'intreccio Del potere Io interpretavo Federico I Di Napoli In un paesino Qui vicino Miglionico Nel castello originale Insomma Nel castello Del mal consiglio Di Miglionico Quindi già L'atmosfera È suggestiva Di suo Perché usiamo La location originale Poi i costumi Molto ben curati Davano proprio Quella magia lì Le musiche Insomma Creano Tutta quell'atmosfera È un connubio perfetto Noi siamo soltanto Il 20% Di questo iceberg Che esce fuori Poi tutto il resto È studio È collaborazione È energia È sinergia È empatia È aiuti L'uno con gli altri Ed è bello Soprattutto sentirsi Una persona nuova E diversa Ogni volta che vivi E soprattutto Sentire qualcuno Che magari È fine spettacolo Si complimenta con te Perché riesci a vedere Federico Primo Riesci a vedere Un capitano Uncino Riesci a vedere Insomma Tanti poi protagonisti Insomma Che ho avuto modo Di interpretare Nel mio percorso Poi Avevi detto appunto Dal teatro Hai deciso di specializzarti Nel mondo del doppiaggio L'attore Presta la voce Nel mondo del doppiaggio Di conseguenza Però Perché Hai deciso Di entrare In questo mondo Che è comunque Un mondo Diverso Effettivamente A livello attoriale Perché Qualcuno È iniziato La gavetta Come facendo L'attore Qualcuno La sua fortuna È iniziato Molto giovanissimo Ed è Ha fatto Soltanto Doppiaggio Allora Io ho intrapreso Questo percorso Nel settore Del doppiaggio Un po' Un po' Per curiosità E un po' Per emergenza Mi piace ammettere Mi piace dire sempre con sorriso Che sono un attore per professione E precario per passione Perché purtroppo Il teatro O meglio L'arte cinematografica Teatrale Recitativa Qui al sud Vivendo a Matera È molto particolare Non è facile Insomma Inserirsi O affermarsi In questo settore Soprattutto se si vive qui Quindi Per Per arricchire Diciamo Il mio bagaglio Culturale Ho deciso Insomma Di intraprendere Questo percorso Per specializzarmi Come doppiatore Per crearmi Un piano B In realtà Senza Senza annullare Insomma Il lavoro dell'attore Che svolgo tutti i giorni In teatro Perché continuo ad essere Insomma Il mio pane quotidiano Ho intrapreso Questo percorso Nel 2017 Terminato poi In accademia Questa scuola Questa accademia di doppiaggio Che ho frequentato Terminato poi nel 2019 O meglio È terminata Quando Siamo caduti In questo limbo Del covid Insomma Che purtroppo Abbiamo dovuto affrontare Nel 2020 Insomma Febbraio-marzo Io mi ero appena trasferito Dal mio piccolo paese Torsi A Matera Un po' per ricerca Un po' per cambiare aria Un po' per Per una crescita personale Principalmente Ho deciso di andare a Roma Però in quel periodo Insomma Vivevo una situazione Abbastanza complicata Sia da un punto di vista Economico Che emotivo E Io ho detto Vabbè Spostiamoci a Matera Tanto è capitale Della cultura 2019 Tra l'altro Qui avevo Tre o quattro set Insomma Dove Ero impegnato Lavorativamente parlando Quindi Vabbè Sai che c'è Ci resto proprio Poi è bella Un paesone Certo non è gigantesca Sono circondato Dalla natura Cosa che io amo Venendo appunto Dalla campagna Se così vogliamo dire Quindi Mi sono circondato Di natura E ho intrapreso Questo percorso Nel settore del doppiaggio In quanto studio Poi arrivò Il covid Io smanettando Poi insomma Su vari siti web Al computer Teatri chiusi Cinema chiusi Comunque Le bollette Bisogna pagarle In un qualche modo Bisognava inventarsi qualcosa Dato che Uscivo da tre anni Di studio Nel settore del doppiaggio Ho deciso poi Di prendere Di intraprendere Questo percorso Nel settore Dello spicheraggio Dunque ad oggi Insomma Sono voce nazionale Di Verishur Di Insomma Di Di XTB Doppiando Conor McGregor Insomma La voce di Conor McGregor In questo In questo spot Tanti altri Insomma Caffè Bristow Verishur Verison Insomma Tanti altri spot nazionali Quindi si è Tergiversato Questo percorso Dall'attore Che recita poi Nelle pubblicità Dare sempre un tocco Di qualità Nei prodotti Nei prodotti Insomma Dell'audiovisivo E ho dato tante voce A tanti spot Pubblicitari nazionali O non E collaborazioni varie Con diversi videomaker Sempre qui della zona Per dare insomma Voce A Ai nostri paesaggi O altri prodotti Come Pubblicitazione dell'olio Insomma Dell'olio O del vino Insomma Del nostro vino Dell'alianico Del vulture Insomma Invece A questo punto Visto che Leggio L'hai visto poco Nel studio Di produzione Mi pare aver capito A questo punto Qual è stata La tua sensazione Quando Hai sentito Per la prima volta Il primo spot Nazionale In onda Dire Quello sono io Quale sensazione E quale Faccia hanno fatto Le altre persone Che hanno detto Ma sei tu Allora Dietro questa Storia C'è un piccolo Aneddoto Molto simpatico Perché Contattai Uno studio Di Matera Io ho detto Guarda Vedi che faccio Questo lavoro Sono un attore Attore di teatro Sono uscito Da questo corso Di doppiaggio Ti andrebbe Insomma Di inserirmi Come voce Da proporre A vari clienti E certo 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 Va bene Molto contento Abbiamo fatto Questa cosa Un mese dopo Mi contatta Sempre lo stesso studio Ho detto Manuel Vedi che c'è Uno spot Nazionale Che apre X Factor 2020 Chiedo Insomma La messa in onda Più o meno Che giorno è Perché insomma L'entusiasmo Di sentire Per la prima volta La mia voce In onda Come spot Nazionale Che succede Che X Factor 2020 Lo davano Soltanto su Sky Oppure su TV8 Però non era La stessa cosa Perché la programmazione Era prevista Soltanto per Sky 1 Io Non avendo Sky Ho deciso Di abbonarmi A Nao TV Semplicemente Per guardare La pubblicità X Factor Non me ne fregava niente In realtà Lo voglio vedere Voglio vedere Come suona Sulla televisione E lì nasce questa cosa La gente Paga Un servizio Come Netflix Come Come Nao TV Per non guardare La pubblicità La pubblicità E io pago Nao TV Per guardare La pubblicità Poi dei prodotti Non ne frega niente Ora lì insomma È diventata una cosa Abbastanza quotidiana Quindi sentire la voce E molti miei amici Ha detto Manuel ma io ho sentito Io ho sentito Questo spot Lo sento tutti i giorni Ma in questo periodo Mi è successo Ho sentito Lo spot di Very Sure Su Rai 1 Ma non avevo capito Che fosse la tua voce E poi Ho visto su internet Che hai pubblicato Tu lo spot Ho detto Caspita Ma è proprio la sua Perché mi ha dato Quest'aria Insomma Molto confortante Molto confortevole La cosa bella e positiva Che molti miei amici Persone Anche colleghi Non riescono a riconoscere La mia voce Negli spot O comunque In prodotti Prodotti audio Perché Do sempre note diverse In base al prodotto Che vado a doppiare Una voce più squillante Una voce più profonda Una voce più Graffiante Una voce più vissuta Più pensata Meno pensata Più di testa Insomma Quindi con le diverse tecniche Insomma Esco a dare verità Con diverse note Spaccettature E caratteri Che sono all'interno All'interno di me In questi vari cassetti Insomma Che io vado poi A prendere Vado a comporre Per questo prodotto Quindi Tanta soddisfazione Perché non riesco A non riconoscermi Ed è molto soddisfatto Ti faccio un esempio C'è stato un tuo Un tuo collega Doppiatore Che mi disse Un giorno Parliamo di Nella sua giovane età Disse Che andò a vedere Un film Pubblicizzato tanto Al cinema Insieme alla sua fidanzata Di quel periodo E poi in certo modo Disse Ma io questa voce La conosco La conosco La conosco Sono io Ma come non ti riconosci Ma no perché lui Aveva visto Lui aveva doppiato Il film In titolo inglese Ma poi il titolo Era in italiano Tradotto in italiano Al cinema Che era uscito Sei mesi Sette mesi dopo Che lui l'aveva doppiato Quindi lui non se lo ricordava In realtà Diceva Ma quello sono E poi Ma alla fine Quello sono io Che non si diventava A me è successo Con uno spot In realtà Stavamo mangiando Io e la mia compagna Stavamo guardando Insomma A Radio Nova Non so che fosse E ho detto Ma amo Ma questa è la voce tua Boh Ma che spot era Non lo so Gazzetta del Mezzogiorno No non sono io La risento Aspetta Oddio Prendo il telefono Michè Ma abbiamo registrato Lo spot Per la Gazzetta del Mezzogiorno Eh sì Due mesi fa Ah ok Sì sì no amo Sono io Sono io Manco ricordato No perché poi magari Sai cos'è Che spesso Poi succedono Magari si incastrano Tante cose Registri Spot O doppiaggi Microdoppiaggi Insomma piccole cose Come adesso Sono Sto preparando Uno spettacolo teatrale Che dovremmo Spera insomma Quest'estate Di fare una piccola tournée Incrociamo le dita In più Sto doppiando Altri video Insomma sul web Per conto terzi Insomma di altre aziende Nel frattempo Il pomeriggio La mattina Insomma ad incastro Vado a doppiare Un'altra cosa Nell'altro studio Quindi tendenzialmente Ti dimentichi Ti dimentichi pure Insomma quello che stai facendo A meno che insomma Non è una produzione importante Dici vabbè Certo che me la ricordo Insomma Sono doppiato il protagonista In un film Netflix Di certo me lo ricordo E quindi perché no Qualche altro tuo collegamento Effettivamente la mattina Sono un assassino Il pomeriggio Sono un prete Nell'intervallo Sono un camionista O Cioè Il famoso Uno nessuno Centomila Perché Cioè C'hai cinquantamila cose E' impossibile ricordarsi Tutto quello che si fa Quale è stato il primo consiglio Che ti porti dietro Che effettivamente Ti ha dato Ti ha fatto anche crescere Artisticamente O comunque Adesso O Già subito Ti sei accorto Che era importante E te lo sei portato dietro Il consiglio fondamentale Era uno Ed è uno soltanto E' la ricerca della verità La verità assoluta Che va Oltre ogni tecnica Ed è la cosa più semplice Che possa esistere Ed è una cosa Che il mio maestro Mi disse all'inizio Pensa in dialetto E dilla in italiano E vedi che ti troverai Sempre bene Perché il dialetto È quella cosa Che ti porti Da quando sei piccolo Quindi Quando parli con i tuoi amici Quando parli con tua sorella Con tua madre Non c'è cosa Più onesta E sincera Di te Svaccato sul divano Che dice Determinate parole A tua madre o tuo padre Pensala così E poi dilla in italiano E portala in scena Ed è una cosa Che mi ha portato Tanta soddisfazione Perché Se ne sentono tante Di voci Tecnicamente Perfette Però Non trasmettono Quell'emozione Non mi comunicano Quella forte emozione Che vorrei Tanto Poter sentire E vorrei poter Tanto comunicare Però C'è il lato Insomma Del Il ruvescio Medaglia Che è quello Di Sporcarsi Troppo O pulirsi Troppo E non riuscire Poi a ritornare Indietro Perché ho imparato La dizione italiana Per poterla Dimenticare All'occorrenza Che molti spettacoli Teatrali Tra l'altro Questo che sto per fare È completamente In dialetto O meglio È un italiano È un Sì Un dialetto Italianizzato Ecco Per Insomma Per la comprensione Del pubblico Quindi è molto Difficile Riuscire a fare Questo switch Da parlare Poco di dialetto E recitare Dialetto E poi Passare in sala E parlare Perfettamente Italiano Col fatto che C'è nel doppiaggio C'è una velocità Di tempi Stretti A volte Capita che Qualcuno Insomma Capita che Tecnicamente È perfetto La dizione È perfetta Il sync È perfetto Ma la recitazione È piatta Cioè Non c'è Quella Emozione Quella Che Nella lingua Originale C'è Ma tu Non sei Perché i tempi Sono strettissimi Al di là Dei tempi Stretti Credo che Questa È una cosa Fondamentale È proprio L'energia Che si deve Respirare In sala Perché siamo Fatti di carne e ossa Siamo esseri umani Abbiamo un cuore Abbiamo una sensibilità E dato che Quando recitiamo Recitiamo con le emozioni E bisogna ripescare Quelle emozioni Soprattutto per chi Viene dal teatro L'emozione Ce l'hai dentro di te Sicuramente una volta Avrai sofferto Sicuramente una volta Avrai gioito Ti sarai arrabbiato Non so Varie sfaccettature Di quelle emozioni Ripescarle Dentro di te E usarle E usarle Poi Andando sincrono Rispettando i tempi Si creano tanti meccanismi Lì ti aiuta la tecnica Perché se sei tecnicamente perfetto Insomma Riesci ad essere preciso Però Quel 20% Di Emozione Di Vissuto personale Ce la devi mettere E devi riuscirla a recuperare Se sei una persona sensibile Allora Quell'emozione esce Ed è vera C'è chi ci arriva subito Proprio in un attimo Così Ci arriva Li viene Insomma Con la scintilla E dà la battuta In modo sincero E onesto Così come dovrebbe essere Però Questa velocità O anche il direttore stesso Che magari non ti dà Non ti mette Non ti mette proprio agio Senti quella tensione No? Senti quella cosa Che devi andare di corsa Devi andare veloce Perché devi finire Quindi non hai quel tempo necessario Per poterti fermare un attimo E dire Ok aspetta Proviamola Che un attore Soprattutto un attore di teatro Più la prova una parte Più gli esce meglio Perché tanto che la ripete Tanto che gli entra in testa Che poi quelle parole Le hai memorizzate Adesso giochi sulle emozioni Così quando costruisco Dei personaggi Prima faccio una Un'infarinatura generale Del testo Quindi Memorizzo più o meno I vari piani No? All'interno All'interno Insomma del testo E dentro la mia testa E mi segno Prima scena Seconda scena Terza scena Poi c'è quel movimento Quindi tutto a livello tecnico Preparo tutte le battute E imparo A memoria Tutte le battute Almeno del primo capitolo Della prima scena Una volta che ho acquisito Tutta la memoria Ho fatto La memoria di tutto Lì inizio a costruirci Con le emozioni E la vedo sempre Come una scultura Una scultura Una statua È sempre fatta Di un blocco Di cemento gigante E poi si costruisce Andando a rimuovere I vari pezzi Quindi lavori Lavori per Soprastrutture Per poi poter togliere 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 Fin quando esce La parte lì Nel doppiaggio invece Devi essere Veloce Di mettere Mattone su mattone Mattone su mattone Quindi vai a costruire Non vai a togliere Uno esagera Per poter ritrovare Poi la giusta La giusta forma La giusta vena L'occhio Semi chiuso Il bottone La scarpa Come deve essere fatta Perché quella scarpa Mette in quel modo Anche un passo Da Un'intonazione diversa All'interpretazione Dell'attore Che vedo in scena Se sta con un occhio così L'interpretazione cambia Se sta messo di così L'interpretazione cambia A sua volta Già la voce cambia Perché sono storto Quindi E arrivarci E il doppiatore Non per questo Fa il doppio attore Fa il doppio lavoro Dell'attore In poco tempo Deve riuscire a Rubare tutte queste informazioni Che ci sono sullo schermo E saper Saper Sfruttare bene Tutte le nozioni E' mai stato in sala Ad assistere A dei doppiaggi Osservando? No Ancora no Non mi è ancora Capitato questo piacere Un po' perché Non vivendo su La vedo molto difficile Un po' perché Poi sono salito su A Roma Sono stato Insomma un mesetto Più o meno Un mesetto Ma Ho provato Ad accedere Però Diciamo Ho fatto una settimana Due settimane Tre settimane Un mese Vabbè Queste mi fanno entrare Quando mi fanno entrare Quando mi fanno entrare Vabbè Ritornerò quando Quando ne sarò un po' più sicuro Diciamo che il doppiaggio E' un sogno Che vorrei realizzare Da quando noi come bambini Ascoltiamo Vediamo i cartoni mati E vediamo quel personaggio Che parlava con la voce italiana Quindi Io ero convinto Che Bud Spencer Avesse quella voce In realtà Non aveva quella voce John Travolta Avesse quella voce In realtà Non aveva quella voce Ero convinto Che Poi Nel tempo Ho capito Che il doppiatore Era Colui che Ci faceva vivere Tutte queste emozioni Secondo te Adesso che lo vivi Un pochettino Come Pensi Cosa cambia E cosa è cambiato Da Da quando Eri bambino A vedere quelle voci Adesso a viverle Poi Successivamente Questo mondo Secondo te A livello Di pensieri Come è cambiato Dici a livello anche Di Di relazione Che puoi avere Con Di pensieri Di convinzioni Di relazioni Secondo te Cosa è cambiato Cosa è cambiato Nella tua immagine Poi successiva Nel tempo Beh Questo mi è capitato Più Da un punto di vista Cinematografico E anche Nel settore Del doppiaggio Perché Da piccolo Tutte le persone Che vedevo Voglio diventare come lui Che bella questa voce La voglio avere pure io Così Ma chissà Se riuscirò un giorno Ad arrivare lì A recitare Con Con un grande attore In questa bellissima voce Sentivo tutte queste belle voci Il doppiaggio italiano Poi ho avuto modo Anche di conoscerle Poi perché sono diventati I miei insegnanti Ad esempio La voce di Carlo Valli Di Di Robbie Williams Io la sentivo Pazzesca Bellissima Definita Così piena di magia La stessa voce Di Bruno Alessandro Insomma Poi Quando le ho conosciute Di persona Sono esseri umani Cioè Sono Semplicemente Persone Con la loro sensibilità Con La loro Con i loro pensieri Con la loro vita Quindi Mi facevo un po' strano Oddio Sto parlando con Robbie Williams Ma che stai scherzando Però poi Insomma Ci si fa anche un po' L'abitudine Ti fa un po' Quella stranezza Però Magari è una cosa Che potranno pensare Di me un giorno Quindi Però dico Vabbè Sono semplicemente Essere umani Anche voi Sono Che ne so Sono andato a cena Con Rocco Papaleo Con Roy Paci Insomma Con Sebastiano Somma Abbiamo mangiato insieme Con Claudio Santamaria Insomma Siamo stati insieme Però Sono sempre No È vero che Quello che si vede In televisione È diverso Da quello che viviamo Nella realtà Quindi alle volte Ti puoi trovare Emeriti stronzi E alle volte Ti puoi trovare Anche persone fantastiche Più belle Di quelle che si vedono Nei film O meglio Di personaggi Che interpretano Nei film Secondo te È più facile Doppiare un film Dove il personaggio È fisico Oppure Un cartone Unanime Guarda Questa difficoltà In realtà Non so Se posso Se so La risposta Perché non avendo Avuto neanche il modo Di doppiare Un cartone animato Un film Non a livello ufficiale Ma bensì soltanto Con tanta esercitazione Cosa preferisco Perché Non avendo Avuto modo Insomma Di recitare O doppiare Insomma Né film Né cartone animati Non a livello ufficiale Posso dirti Le mie preferenze Preferisco Tra i due Il cinema Doppiare un film Piuttosto se Gli attori Sono bravi Anche perché Si dice Insomma Più l'attore è bravo Più è facile per te Perché Vedi un'immagine Più nitida E' un po' come Riuscire a Trovare le differenze In un'immagine In 8K Piuttosto che In 124 pixel Prova a immaginare L'attore è bravo In 8K E poi L'attore è meno bravo In In 144 pixel Insomma Comisci bene Insomma La differenza è abissale Insomma A livello qualitativo E soprattutto Riuscire a dare Quei giusti colori A me piace molto Dipingere Con la mente Con la voce Con i caratteri Con il corpo Con tutto me stesso E Questo poi mi porta A preferire Anche i cartoni animati Perché lì c'è Lo spazio infinito Hai l'universo A tua disposizione Puoi giocare Con qualsiasi voce Puoi fare le voci Di qualsiasi cartone animato In modo diverso Puoi trovare Altre vie Insomma Per dare Interpretazioni diverse E così via Insomma Giocare Quindi Ritornare bambini Per un attimo E divertirsi Semplicemente Divertirsi Quindi preferisco Preferisco Di gran lunga Entrambi Entrambi La domanda di figli Insomma Chi vuoi bene Chi vuoi più bene Più a mamma o a papà Che preferisci La musica o al cinema Io amo tutto Anche perché Inizialmente Ho amato tantissimo La musica Continuo ad amare la musica Perché Ripeto Se non fosse stato Per questa interruzione Diciamo Di questo mio percorso Ad oggi Non sarei né attore Né doppiatore Sarei un musicista Perché Ho intrapreso questo percorso Da musicista Avevo 15 anni E il ragazzo Più giovane Quello quale suonavo Nella mia band Aveva 42 anni E dico solo questo Perché non c'erano Giovani Che volevano suonare Fare rock Fare un po' di rock and roll Fare un po' di blues Fare un po' di Divertirsi Strimpellare qualcosa In qualche garage Perché vedevo Tanti miei amici Più grandi di me Che a loro volta Avevano la loro band E ho detto Caspita La voglio avere anch'io Quindi da lì Che è iniziato Questo pensiero Di dare Sfumature diverse Spaziare a destra e sinistra Dalla musica Queste tipologie di musica Appassionandomi poi al blues Appassionandomi poi al rock Grazie a mio padre Insomma A suonarlo poi Rock Tornando poi indietro A scoprire la musica classica Innamorarmi di Rachmaninov Poi passando Dalla Chicago Blues Degli anni 50 Con Muddy Guy Muddy Waters Mappy Slim Etta James Chuck Berry Quindi è lì Che poi nascono Le mie varie interpretazioni Sfumature anche della voce Perché in base A quello che io sentivo Quella musica Che mi trasmetteva Allora la voce Usciva in un altro modo Perché si doveva Intonare perfettamente Perché avendo un passato Anche da musicista Non posso stonare Fuori dall'orchestra Quindi mi devo adattare In base a quello che sento E quindi questa cosa Mi ha aiutato molto Sei nerd? Non ho capito Sei nerd? Poco Poco nerd Però sì Qualcosa qualcosa Sì Insomma Sulla fumettistica Da Marvel La DC Comics Però diciamo Non sono un collezionista Di anime Non a quei livelli Ma ci da tutta la musica C'è qualche gruppo Che ti piace In particolare Pure E indifferente Eh ce ne sono tanti Di gruppi particolari In realtà io Per lunghi anni Ho amato i Pink Floyd Perché sono stati per me La band La mia band preferita C'ho scritto anche un articolo Facevo il primo Il primo liceo C'ho scritto un articolo Di otto pagine Che poi Scrivevo insomma Per il giornalino della scuola E avevo il reparto musica Perché ero appassionato Quindi sì Pink Floyd Anche per la storia Che raccontano I draghi I misteri Che hanno affrontato Quindi sì Pink Floyd La mia band In assoluto preferita Però ce ne sono molte altre C'è la mia band preferita Metal La mia band preferita Ho cantante preferito Pop, rock, rap Insomma Ne ho tanti preferiti Italiano? Vinicio da Possella Che? Un cantante italiano Che mi piace molto Al primo posto Ma vado molto più vicino Ai miei tempi E Caparezza Mi piace molto Caparezza E il suo pensiero Per insomma Poi Mo ci vuole E Terra terra Mi piace molto Quella visceralità Perché è pugliese E quindi parla in modo molto Anche se Le sue tematiche Spaziano a destra e a sinistra Però Insomma Spaziano Dalle cose più Ovvie E meno ovvie Passando Insomma Dalla Puglia Al cantare in Puglia Che ne sono Argenti vive Insomma Con la Divina Commedia Tutti gli altri Caparezza mi piace molto Lucio Battisti Ma è più Lucio Battisti PFM Fabrizio Di Andrè Insomma Perché sono queste passioni Che me le ha trasmesse mio padre E mio padre Ascoltando questa musica Va tutto Essendo lui Insomma Il primo fan Di Lucio Battisti E Fabrizio Di Andrè La sua volta Insomma Mi sono innamorato anch'io Tra l'altro c'è un verso Che A De Andrè Recitava Il suonatore Jones Che tra l'altro In quell'album Meraviglioso Non al denaro Non all'amore Né al cielo Tra l'altro Che sono Trascrizione Degli epitaffi Di Delle antologie Di Spoon River Di Edgar Limaster C'era questa strofa Bellissima Insomma Che rappresenta me Come può rappresentare Molti altri attori E fa proprio così E se la gente sa Che sai suonare Suonare ti tocca Per tutta la vita E ti piace Lasciarti ascoltare Adesso non me ne ne mai Ed è Ed è così Poi che vivo tutti i giorni Perché La gente sa Che sai suonare Puoi suonare E ti tocca Per tutta la vita Ti ringrazio Vivamente Grazie Grazie a voi Per questa intervista Spero insomma Di rivederci presto O magari che ne so Ci sentiremo O mi sentirete presto Insomma In tv O da altre parti O magari perché no Anche In teatro O al cinema Quindi Ci salutiamo E Ti auguro una buona Buona serata E un buon lavoro Ci volevo lasciare con Con Queste parole Che interpretava Gigi Proietti Non voglio fare Insomma Come dire Allora Dov'è Eccolo qua Parole bellissime Non voglio Paragonarmi Al grande Gigi Proietti Però Sono parole Molto belle Ve le voglio Dedicare E fanno così Viva il teatro Dove tutto È finto Ma niente C'è De farsi E questo È vero E tu Lo sai Da prima Se sei tinto O Tello O puramente Nero Nessun attore È vero Vo fa crede Spignendo forte Sull'intonazione Che è tutto vero Quello che si vede Lui vole Fa vedere Che è una finzione Si gli tocca Morì Sopra le scene È vero Che non muore Veramente Se no Che morirebbe Così bene Capisci Capisci a me Fammi il piacere Se morisse De morte vera Non potrebbe morire Tutte le sere Studio 7 tv E sport picciano game Presentano L'intervista di Pietro Ospite della puntata